vediamo il palmare dell'ANUEL CT40 questo è un palmare della linea enterprise display da 5 pollici batterie da 4090 mAh estraibile quindi utilizzando anche decreto esterno io posso garantire l'autonomia nel lavoro già la batteria stessa può garantire circa 12 ore di lavoro linea enterprise perché perché questo è aggiornabile fino a cinque versioni successive di android dal momento dell'acquisto inoltre posso installare mdm o emulatori diciamo a corredo a tutta una serie di utility che lo rendono di un prodotto di fascia alta che anche un'ottica molto performante vediamo adesso l'utilizzo in varie letture essendo 2d legge sia codice a barre lineari che codice a barre bidizionali vediamo le letture come si comporta vedete la velocità della lettura anche su codici rovinati magari segnati come vedete anche il 2d come leggo velocemente anche questo che era rovinato ma vediamo anche i casi estremi io per vedere un codice a barre 2d una risoluzione bassa adesso andiamo a vedere la capacità di lettura vedete posso altri codici però quindi uno strumento del genere che può essere utilizzato veramente in tutti i settori nella logistica anche lavorando all'esterno perché oltre alla wifi può essere dotato anche di una sim per cui tutte le applicazioni tentata vendita controlli sul campo manutenzione eccetera ma è un'altra cosa in più che esiste la versione che stiamo vedendo è la versione diciamo per settore sanitario perché ha lo chassis sanificabile per cui tutte queste caratteristiche di lettura robustezza e configurazioni tecniche le possiamo anche trasportare in ambiente sanitario dove serve un dispositivo sanificabile